Ecco, no, dentro la testa è il passaggio dell'intervista. La testa è il passaggio dell'intervista è il passaggio dell'intervista. La testa 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 è il passaggio dell'intervista. arriva bene arriva dai sta cazzo dai 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 GUN! va bene, va bene, forza va bene, va bene, va bene cambia, 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 cambia Gattolo, vada a tirare hai comprato le gomme nuove? Passa Andiamo, andiamo... Andiamo? Grazie a tutti. Grazie a tutti.